Buongiorno e ben trovati in In questa edizione di Mattino 6, mercoledì 8 novembre 2017, sfoglieremo le pagine dei quotidiani nazionali, le prime soprattutto, e poi le pagine dei quotidiani locali e rivedremo alcuni dei servizi realizzati ieri dalla redazione del TG6. Iniziamo subito la nostra rassegna stampa dalle prime pagine dei quotidiani locali e siamo alle quattro edizioni del centro, in particolare quella di Pescara. 7 milioni per la lotta allo smog. Il comune, quello di Pescara, acquista bus ecologici e bici con i fondi europei. Sotto la testata, fatti nazionali dopo il voto in Sicilia, caos nel PD, ma Renzi resiste e non riusciranno a cacciarmi. La proposta, il governo, pensione anticipata per 15 categorie di lavoratori. Poi la fotonotizia al centro, a San Silvestro si fa festa con 100 kg di castagna, musica, balli e vino nel tradizionale appuntamento. E poi ancora per la cronaca, frode da 7 milioni, 3 arresti per il crack miliarini, per bancarotta. E poi ancora 28 anni ai domiciliari, così Whatsapp ha incastrato lo spacciatore. In basso, pronti 58 mila vaccini al via da oggi la campagna antinfluenzale. E poi in taglio medio, Abruzzo più occupazione. In rapporto Svimez crescono anche i risparmi, ma è scontro sul PIL. In basso, gli ambientalisti accusano dietro ai roghi del morrone il business dei pascoli abusivi. Sicurezza in casa, acqua sporca e fughe di gas, ecco le paure degli abruzzesi. Il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, babbo di Natale, cercasi purché sia buono. Avanti ancora con l'edizione Aquilana, ecco l'apertura. Taglia su chi abbandona i rifiuti. Ad Avezzano sconti in bolletta per chi filma o fotografa i cittadini incivili. La fotonotizia all'Aquila. Il Museo Nazionale d'Abruzzo munda visitatori in aumento 240 persone in un giorno. E poi per la cronaca, sul Mona auto bruciate la notte di paura nella palazzina in via Avezzano. All'Aquila, Visconti chiede una sede in città di Meteo Italia. E poi sempre all'Aquila, incrocio killer, oggi l'addio a Valentina. Avanti ancora con l'edizione Teramana, l'apertura. Roseto, puniti 16 tifosi violenti con spranghe e coltelli a fornì. Piovono di fide da 1 a 5 anni. La fotonotizia. Teatro al Palasporti di San Nicolò. Esperimento riuscito. Il debutto della stagione della Riccitelli con Lavia. E poi la crisi al comune di Teramo. Gatti fa saltare il Consiglio ma Brucchi resta. E poi ancora più in basso a Pineto. Grave un ciclista travolto da due auto. E poi il giallo della pittrice. L'avvocato. Lei non aveva motivi per scomparire. Vediamo ora l'edizione di Chieti con la seguente apertura. Beleni nell'aria, controlli nelle case, gas dai siti contaminati e rischio esalazioni. L'Arta chiede nuove analisi. Tutto questo a Chieti. E poi la fotonotizia. Piscine di Chieti. Il comune promette sì alla proroga. E poi ancora leggiamo alcuni richiami di cronaca. a Vasto per una multa sfonda la porta del municipio. A Chieti, bancarotta da 14 milioni. Maxi condanna. E a Treglio, stop al Sanzificio. Protestano gli agricoltori. La prima pagina del messaggero Abruzzo. Con questa apertura. Fallimenti a catena. Tre arresti. A Pescara sotto accusa per bancarotta fraudolenta. L'imprenditore Riccardo Concetti. Titolare dei supermercati Simpli. Ed ecco, nei guai anche la moglie e un collaboratore. E poi sotto la testata. Prego Penne. A meglio il regista dei sentimenti. Incoronato a Chieti da Enrico Vanzina. L'Aquila rinasce i negozianti contro la sosta a pagamento in centro storico. Per il calcio. Verso la gara di domenica. Bari-Pescara. Terra Cenere. Il dilemma dell'ex. Due squadre del cuore. Metto X in bianco-rosso. Sono cresciuto ma con la maglia bianca-azzurra ho avuto una chance quando nessuno era disposto a credere in me. E poi di spalla. Dirsi sì. In Abruzzo. Rommossi. Il famoso Ridge di Beautiful testimonial. Eccolo qui. In basso il Ridge di Beautiful lancerà le location della regione. Un business da 380 milioni. E poi la fotonotizia. Lo Svimez boccia l'Abruzzo. Il punto sulle 109 vertenze. Poi in taglio medio influenza via alle vaccinazioni. Precedenza ad anziani e malati. Le ASL si organizzano per la campagna. In campo distretti e medici di base. Ad Avezzano. Rissa e coltellate nella notte. Nigeriano ferito. E poi a Lanciano. Sansificio chiuso. Emergenza frantoi. E vediamo ora la prima pagina della città. L'apertura. Riferimento chiaramente alla crisi in comune a Teramo. I gattiani mollano il sindaco Brucchi. Futuro in assente al voto sul bilancio. Assessori verso le dimissioni. Commissario alle porte. Poi per il calcio. Sotto la testata. Oggi la trasferta alle 14.30. Diavolo contro la Triestina. In cerca di una scintilla. Sabato la manifestazione. Provincia in testa al corteo per l'acqua sicura. E poi in basso c'è l'editoriale del direttore Alessandro Misson. Proprio sulla crisi al comune di Teramo. Scacco gatto. E poi la fotonotizia con un nuovo universo. Ecco qui domani il taglio del nastro della struttura rinnovata. Quella del centro universo che peraltro ospita la nostra emittente da anni. E poi ancora di spalla. Montorio potabilizzatore del ruzzo in tilt. Causa fulmine. A Mosciano Sant'Angelo anche Mariani si schieda contro il biodigestore. E a Pescara apre il primo negozio dedicato alla cannabis. Ancora finiamo di vedere la prima pagina della città. 16 D'Aspo per gli ultra degli Sharks. Curva in sciopero dopo i fatti della trasferta di Forlì. Controguerra migliaia di runners da tutto il mondo attesi alla corsa di San Martino. E ora andiamo a vedere le prime pagine delle principali testate nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Ecco qui l'apertura. Renzi attacca. Intese lontane. Futuro capo del governo. Anche Gentiloni. Bersani puntiamo su Grasso. Il segretario del PD non mi faranno fuori. E Mattarella dice fantasie. Le urne a maggio. Sono appunto le conseguenze del voto in Sicilia. Di Spalla l'integrazione, il messaggio, il Papa, i migranti accettare le leggi di chi accoglie. E poi ancora vediamo in basso la fotonotizia con le dichiarazioni dell'attrice Monica Bellucci. Scandalo delle molesti. L'attrice difende tornatore. Le donne che denunciano. Giusto ma serve prudenza. E poi di Spalla sempre pensione a 67 anni. Salgono a 15 le categorie escluse. Proseguiamo con la prima pagina di Repubblica. Renzi ignora le critiche e attacca. Il segretario pensa a un partito personalizzato stile Macron. Non mollo. Punto al 40%. I ministri Dem non lasceremo che rende il PD una bad company. Grasso dare speranza al paese. E poi in basso appena sotto il caso Berlusconi, Salvini e Ivetti per decidere chi sarà il premier del centro-destra. La fotonotizia avanti molto ad agio. Così Venezia dirotta le meganavi saranno deviate lontano da San Marco ma soltanto tra qualche anno. E poi in basso l'inchiesta più donne al vertice ma senza potere. E quindi le dichiarazioni dell'attore Valerio Mastrandrea e Le Molesti e Stocco Nasi Argento ha avuto coraggio. La prima pagina della stampa con le parole del premier Gentiloni. Non tradirò Renzi. Il segretario riconosco i miei errori. Non pongo veti per ricostruire il centro-sinistra. Lega Forza Italia si apre lo scontro su poltrona e collegi. No azzurro al candidato della Meloni alle regionali del Lazio. E poi ancora sempre per la politica centrodestra. Salvini frena Berlusconi. Stop insulti ai grillini. Dobbiamo batterli sui contenuti. Non basta presentarsi come moderate. E poi sul fronte 5 Stelle sfiderò il centro-destra con i voti dei giovani PD di Maio. Svoteremo il loro bacino. E studia l'apertura al sì sullo Ius Soli. Poi la fotonotizia sulla barca a vela. La guerra dei sessi. Il regolamento della Volvo Ocean Race favorisce gli equipaggi misti. E si apre il confronto. Avanti con il sole 24 ore. Ecco l'apertura sugli NPL. L'Italia attacca la linea della vigilanza BCE. Draghi serve sforzo congiunto. Nui più fusioni trasfrontaliere. Padoan. Le scelte vanno oltre i limiti istituzionali. Boccia rischi dalle nuove regole. Andiamo avanti e vediamo la prima pagina del Fatto Quotidiano. Ecco il titolo d'apertura. 170 mila voti impresentabili. Gli unici vincitori della consultazione in Sicilia. Con loro una lista che da sola vale circa l'8%. E poi sotto la testata sul fronte Stati Uniti. Trump il cane di pezza che sfregia l'America. Un anno di presidenza tra menzogne e cretini. E poi in basso leggiamo Rai, Sher e Conti in rosso. Allarme pubblicità nel CDA. Inserzionisti in fuga. Troppi i flop. La prima pagina del manifesto. Febbre a 40. Ecco qui il titolo d'apertura. Con le dichiarazioni del segretario del PD Renzi. Cercano di mettermi da parte ma io non mollo. Possiamo arrivare al 40%. Il giorno dopo la batosta siciliana. Renzi teme l'accerchiamento e rilancia. Dando i numeri contano i nuovi 986 mila posti di lavoro. Non i comuni persi. E poi in basso pensionati. Zero. Marchionne 42 milioni. Da Banca Italia al governo. Niente stop all'aumento dell'età pensionabile. E poi ancora il messaggero. Pensioni gli esclusi da quota 67. Proposta del governo ai sindacati per 15 categorie. Non scatta l'aumento dell'età. Le novità per siderurgici, marittimi, braccianti e pescatori. La protesta dei medici. E poi sotto la testata il libro Walter Veltroni. Se il militante si risveglia nel mondo nuovo. E poi un po' di gossip. Rottura in attesa. Biaggi a sei. L'amore è finito. Mi ha lasciata. E non so perché. Andiamo ora in basso con la fotonotizia. Arabia Saudita. Retate e delitti verso la resa dei conti con l'Iran. La notte lunga. La notte dei lunghi coltelli nella casa reale. Poi per la politica. Renzi. Non mi farò cacciare. Rilancia l'offerta su Gentiloni. Il segretario. Futuro premier. Il segretario. 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 La prima pagina del tempo. Eccola qui. Antifascismo dall'aldilà. Condannati per una tomba. Sindaco e assessori di Affile. Nei guai. Per il mausoleo di Graziani. I PM ricorrono in appello. Anziché otto mesi. Volevano due anni di galera. Così i rom ci avvelenano esclusivo il documento segreto dell'ARPA sui danni dei roghi tossici. Aumentano i valori dei veleni rilasciati dai fuochi dei campi nomadi. E poi per la politica la maggioranza scatta per un voto e c'è anche sgarbi le trattative per la giunta musumeci in Sicilia. E ora vediamo libero la prima pagina per stendere Renzi. Bisogna sparargli nel PD. Goffi tentativi per liberarsene anziché darsi da fare per recuperare voti. La sinistra si industria per cacciare il segretario Demi. Il quale è pronto a tutto tranne che a tirarsi indietro. In compenso sono gli elettori ad andarsene. Poi la fotonotizia. Sono tornati i leccasilvio. Dopo la vittoria in Sicilia il Cavaliere ha la coda alla porta. E proseguiamo con la verità. Elezioni forse a maggio tolgono il voto a noi per dare la cittadinanza agli immigrati. Renzi ha bisogno di tempo per assorbire la scopola siciliana e far approvare a colpi di fiducia dal Parlamento. Iussoli e fine vita. Due leggi con le quali spera di recuperare consensi a sinistra. Poi il caso Tugliani. Ecco qui la donna di Tugliani che faceva la spola fra Italia e Dubai. E quindi in taglio medio nel nostro paese 80.000 musulmane infibulate. L'operazione è illegale ma continua a essere praticata. Almeno 2.000 l'anno le bimbe mutilate senza anestesia con ferri non sterili. E andiamo verso le ultime due testate. Vediamo i titoli d'apertura. Intanto dell'avvenire. L'Unione Europea evade ancora. Divisi 28 paesi. Frena la lotta ai paradisi fiscali. E slitta l'iva nazionale sul commercio elettronico. Sulla tassazione serve unanimità. Raggiungere è difficile. Ferme le imposte sulle transazioni finanziarie e sui profitti dei colossi del web. E quindi il mattino con le dichiarazioni del segretario Renzi. Segretario del PD. Renzi non mi farò cacciare. Il futuro premier lo decide il Parlamento. Bersani lancia grasso. Il segretario del PD in TV. No avveti sulle alleanze. Il colle smentisce il piano per il voto a maggio. Torniamo ora sui quotidiani locali. Come vedete alle mie spalle. Andiamo a sfogliare le pagine del centro. Siamo a pagina 2. Con il dossier sull'economia. Abruzzo più occupati e ricchezza pro capite. Presentato a Roma il rapporto Svimez che traccia lo stato di salute del sud. Scontro sul PIL. Meno 0,2%. Paolucci e Vecchio di Stefano e Marcozzi dicono bocciati. E poi in basso parte da questa settimana la rottamazione online delle cartelle esattoriali. L'Agenzia delle Entrate spiega come fare per pagare senza sovrattasse i debiti con l'erario. E quindi pagina 3. Ecco qui. Gli ambientalisti denunciano dietro i roghi il business dei pascoli abusivi. L'associazione aquilana Appennino Ecosistema lancia una pesante accusa. Gli incendi sul Morrone hanno spianato la strada agli allevatori fuori legge. Poi in basso chiesti i danni per l'orso ucciso. Processo al dipendente Anas che sparò. WWF, Parco e altre sigre. Parti civili. Avanti ancora e siamo alla pagina dell'Abruzzo. Pagina 9. Sicurezza in casa. Acqua sporca e fughe di gas. Le paure degli abruzzesi. Indagine online. Rivela le minacce domestiche più temute nella nostra regione. Spuntano muffe e acari tra i pericoli percepiti. La soluzione è affidata al fai-da-te. E poi di spalla sul fronte a Rigopiano. Il comitato vittime oggi torna dal prefetto. Le pagine di Pescara. Piano contro lo smog. In arrivo 7 milioni di euro per acquistare bus e bici. Il comune ottiene i fondi europei per potenziare il trasporto ecologico. Vediamo il servizio realizzato ieri dal Tg6. Per ottenere questi fondi, PORFES, il comune di Pescara ha ottenuto 6 milioni e 9 ed è stato considerato il capoluogo di regione in cima alla classifica per l'ottenimento di questi fondi e quindi di questo siamo molto soddisfatti. Si richiedeva di elaborare una strategia urbana sostenibile e sostanzialmente si tratta di uno sviluppo di strumenti che noi già avevamo in campo come il PUMS, il piano urbano per mobilità sostenibile, l'atto di indirizzo strategico e una serie di attività in corso che abbiamo sviluppato e raccolto in questa strategia. In questa strategia abbiamo sostanzialmente finanziamenti europei che passano attraverso la regione che sono stati assegnati attraverso questa forma competitiva tra vari comuni per realizzare, per mettere in pratica questa strategia urbana che è una strategia che comporta la realizzazione di un trasporto collettivo che passa all'interno della città, su sede riservata e protetta quindi su questo abbiamo circa 2 milioni di euro da investire comporta la creazione di una serie di cosetti infomobility points nella città comporta l'acquisto che sarebbero punti intelligenti di ricarica, di scambio di informazioni e così via, comporta l'acquisto di bus elettrici per completare la rete di collegamenti soprattutto nelle parti più periferiche, l'acquisto di biciclette che siano idonee a poter essere utilizzate anche da parte di persone portatrici di disabilità e la connessione tra i luoghi culturali della città con la mobilità sostenibile proseguiamo e restiamo in argomento 500 biciclette da prendere in affitto in tutta la città con un'app sul telefonino la proposta di una società irlandese al comune di Pescara con il bike sharing si ridurrà il traffico e poi ancora il rondò vicino all'aurum sarà intitolato a toto l'amministrazione comunale accoglie la proposta del giornalista console la rotonda sarà dedicata al principe della risata la commissione ha già detto sì in basso multe fino a 500 euro per i bivacchi in centro ordinanza del sindaco vieta di sedersi o sdraiarsi nelle strade del cemento e di consumare alcolici avanti ancora sempre per la cronaca operazione serial failure crack miliarini tre arresti per bancarotta fraudolenta la coppia di imprenditori e l'uomo di fiducia tutti i marchigiani accusati di aver causato un passivo di 7 milioni alla società che gestiva supermercati Simpli ed Ecco e poi ancora festa a base di droga fermati in due irruzione dei carabinieri in una abitazione dei Colli dove c'erano 11 giovani e poi ancora rapine nei supermercati la netta assolto il giornalista di Lanciano è stato dichiarato incapace di intendere e di volere al momento del fatto avanti ancora spacciatore incastrato dai messaggi whatsapp la polizia arresta un 28enne accusato di una serie di cessioni di cocaina nelle conversazioni e le indicazioni per gli appuntamenti e i commenti sulla droga e poi ieri i carabinieri hanno presentato il calendario 2018 sui valori etici e sociali vediamo l'intervista Oggi la presentazione del calendario storico dell'arma si parla dei valori etici e sociali dell'arma dei carabinieri esatto è un calendario molto particolare che ha un taglio molto artistico e quest'anno il tema è l'impegno dell'arma dei carabinieri nel mondo ad ogni mese dell'anno è stato dedicato un continente o comunque una regione di un continente nell'ambito della quale all'interno della quale l'arma dei carabinieri è presente o è stata presente o lo è stata storicamente come protagonista sia in teatri relativi alle missioni di pace sia comunque in funzione di ente di addestramento alle forze di sicurezza di quel paese sul centro a pagina 17 campagna antinfluenzale al via le vaccinazioni pronte 58.518 dosi la protezione dura 6-8 mesi ecco dove farla e chi è a rischio e qui vediamo questa tabella riepilogativa dove appunto si ribadisce come sono oltre 58.000 le dosi pronte per la campagna 2017-2018 poco più di 51.000 le dosi somministrate nel 2016-2017 quindi ci sono 7.000 dosi in più rispetto appunto all'anno precedente poi altri dati statistici in merito alla campagna antinfluenzale che appunto parte da oggi la campagna 2017-2018 avanti ancora di Marco un vertice con il prefetto sulla nuova Pescara e la richiesta del presidente della provincia a D'Alfonso subito in incontro istituzionale con sindaci e giuristi di spalla la polemica Antonelli di Forza Italia bloccata la sanatoria sulle cantine e ora siamo alla pagina di Monte Silvano i fanghi di Ortona il mare Adriatico non è una discarica insolgono gli ambientalisti contro l'ipotesi di smaltire 342.000 metri cubi di materiali vicino all'area protetta del Cerrano attiveremo ogni possibile iniziativa se vi fosse pregiudizio per la nostra economia turistica le parole del sindaco di Monte Silvano Maragno e poi in basso sempre a Monte Silvano trasporto disabili pronti i primi rimborsi De Martini aiuti alle famiglie per le cure riabilitative le domande vanno presentate al comune avanti nelle pagine successive del centro qui siamo a Francavilla Abruzzo include al via i colloqui per 568 candidati sul sito del comune l'elenco degli ammessi e gli incentivi ecco dove e quando si terranno gli incontri a novembre con gli interessati a Spoltore invece il Fla fa tappa appunto nella cittadina in provincia di Pescara domenica di libri, musica e foto al convento bignard di intervista di Pietrantonio tra il concerto di Picco e la performance di Pagetti restiamo nel pescarese siamo a Manoppello furti in serie nella scuola media ciuffati i ladri dopo i colpi ripetuti e gli impianti degli snack i carabinieri si sono appostati e hanno sorpreso due giovani la pagina di Chieti emergenza a Chietiscalo gas dai siti contaminati l'arta controlli nelle case tecnici in comune per esaminare i progetti di bonifica dei terreni della Sixty Log il direttore Chiavaroli chiede analisi sull'aria c'è il rischio di esalazioni tossiche e poi in taglio medio pugnalate al pub trovato il terzo aggressore otto mesi dopo la rissa la mobile scopre l'ultimo accoltellatore di cipressi e un minorenne campano e poi ancora sempre a Chieti banca rotta da 14 milioni condanna a 6 anni l'imprenditore bevi l'acqua sotto accusa per la cartolarizzazione e la vendita di un marchio di moda pagina Aquilana ma siamo a Sulmona due auto in fiamme paura nella notte incendio doloso in via Avezzano i residenti esasperati il comune deve installare le telecamere ma non lo fa sono tanti gli episodi di criminalità e qui alcuni scatti dell'incendio che è divampato in via Avezzano a Sulmona e poi una sede di Meteo Italia all'Aquila il professor Visconti a Biondi si aprirebbe un corso di laurea in meteorologia e chiudiamo con la pagina terramana del centro Renata non aveva motivi per sparire l'avvocato della donna era serena inspiegabile il viaggio a Giuliano ma da tempo non aveva rapporti con i familiari e poi ancora Roseto Basket puniti 16 tifosi violenti erano andati in trasferta forli armati di spranghe e coltelli divieti da 1 a 5 anni per la crisi al comune di Teramo Gatti fa saltare il consiglio ma Brucchi resiste ancora ci fermiamo pubblicità prima però le previsioni del tempo poi ci ritroveremo con la seconda parte di mattino 6 di nuovo buongiorno è la seconda parte di mattino 6 che riprende sfogliando le pagine del messaggero Abruzzo ecco gli scenari dell'economia da Daico a Onewell le battaglie sulla costa il punto del vice governatore Lolli sulle 109 vertenze aziendali aperte a Teramo pesa il declino del tessile Zavorra a credito per le micro imprese e poi ancora alcuni fronti che sono aperti in Val Pescara la soddisfazione per la soluzione del caso Solve bilanciata dalla ex Merker la fabbrica di Atessa ovvero la Onewell con i 430 posti in pericolo è l'emblema delle difficoltà del momento e poi ancora PIL in calo l'industria soffre le ombre del rapporto Svimez Baruffa sui dati svelati ieri a Roma Paolucci ci sono anche note positive Sara Marcozzi l'Abruzzo arretra e poi la pagina o meglio le pagine di Pescara al via le vaccinazioni anti-influenza parte la campagna della ASL rivolta soprattutto ai soggetti a rischio soglia minima di copertura fissata al 75% la dottoressa Granchelli un farmaco specifico e diverso per anziani e bambini di spalla le parole del manager della ASL pescarese Mancini malattia che uccide giusto cautelarsi Armando Mancini mette in guardia dal rischio di complicazioni gli ambulatori a disposizione poi come abbiamo visto sul fronte del comune di Pescara bus bici e wifi multimediale così Pescara diventa europea avanti ancora restiamo sempre a Pescara crack dei supermercati tre arresti accusa di bancarotta fradolenta per Riccardo Concetti la moglie Daniela Delfino e il collaboratore Fabrizio Santucci secondo la finanza la miglialina è stata fatta fallire attraverso distrazioni di denaro a 12 società controllate e poi in basso cannabis per uso terapeutico e cosmesi arriva in città un negozio autorizzato e siamo sempre a Pescara i 60 anni dell'azienda più antica Serafino Menzietti entrato in Maicon nel 1957 come venditore e diventato il titolare del gruppo leader degli apparecchi acustici era un ragazzino con tante idee neanche un soldo sabato in Confindustria sarà premiato tra i campioni di innovazione alcune foto d'epoca sono appunto nella pagina e poi ancora l'imprenditore ancora oggi al comando insieme a figlio e genero editoria e cosmesi tra i nuovi interessi in basso piano di recupero fantasma si temono colate di cemento siamo a Montesilvano tre interventi edificatori a Montesilvano l'assessore Musa cerca un accordo salva parcheggi progetto della Sirio per 20 appartamenti in piazza Muzzi dove non c'è nulla da recuperare la legge lo consente proseguiamo e siamo alle pagine dell'Aquila con la sosta a pagamento il centro storico morirà e unanime la voce dei residenti e lavoratori contro il possibile ticket sarebbe una follia proprio quando tutto è ancora in fase di costruzione il sindaco Biondi ha intenzione di aderire alla proposta dei commercianti per il Natale prima del sisma c'erano le zone gialle ma assieme ai servizi ora è un assurdo avanti ancora di spalla andiamo a leggere vino i caratteri forti nati dall'idea di Adriana e c'è il racconto di questa storia nell'articolo del messaggero proseguiamo e restiamo sempre all'Aquila subito i dissuasori sulla statale 17 vertice tecnico presso la sede Anas dopo lo schianto mortale avvenuto un'altra notte in zona San Gregorio stabilito un cronoprogramma delle opere concordato assieme ai sindaci interessati migliora anche la visibilità rotatoria in prossimità dell'incrocio con Paganica resta il dubbio sulla variante sud e poi ancora un top crash per far luce sulla morte di Valentina la polizia stradale utilizzerà uno strumento ad alta tecnologia oggi i funerali in basso smart card dei servizi per gli studenti universitari l'assessore Francesco Bignotti l'attiverà entro giugno 2018 tante agevolazioni per i non residenti proseguiamo e siamo in Marsica ad Avezzano Far West nella casa di riposo un ferito grave coinvolto nella rissa pure un avezzanese già noto alla polizia un nigeriano ha avuto la peggio ed è ricoverato in ospedale in manette due giovani un ventenne del posto ed un magrebino il momento è un giallo gli investigatori parlano di futili motivi pagine di Chieti a meglio il suo Politeama il regista regala sentimenti all'auditorium del rettorato dell'Ateneo l'autore ha ricevuto il premio Città di Penne il presidente della giuria Enrico Vanzina nelle sue storie un lavoro interiore fortissimo il messaggio agli studenti se vi state chiedendo come si entra nel cinema vi dico che chi vuole ci riesce negli ultimi anni il prestigioso riconoscimento assegnato anche a Carlo Verdone e a Giancarlo Giannini in basso arriva il colonnello Forleo o Chieti nel cuore nuovo comandante provinciale dei carabinieri a Chieti avanti ancora siamo a Lanciano San Sificio chiuso emergenza Frantoio storico impianto di Trello non ha ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione c'è lo stop immediato alle lavorazioni adesso gli agricoltori non possono più raccogliere le olive bisognerebbe recarsi in Puglia ma i costi sono altissimi vediamo il servizio il San Sificio di Trello non ha ottenuto l'autorizzazione unica ambientale e dopo tre giorni di lavorazione ferma l'impianto l'associazione di categoria dei Frantoiani ne chiede la riapertura per consentire di smaltire la sanza della stagione di molitura degli olive in prima linea a difesa dell'attività imprenditoriale c'è con Frantoiani presieduta dal presidente Alberto Amoroso che assieme al titolare del San Sificio Vecere sta perorando la causa negli uffici regionali competenti dall'assessorato all'agricoltura agli uffici titolati a rilasciare l'autorizzazione unica ambientale non è più possibile conferire la sanza spiega Amoroso gli agricoltori e i Frantoiani che lamentano la chiusura dell'impianto di Trello nella filiera dell'olio spiega Amoroso c'è uno prodotto che si chiama Sansa che in tutta Italia viene lavorato per i sottoprodotti che può generare ma solo in Abruzzo in particolare nel nostro territorio lamenta il presidente di Confrantoiani i sanzifici vengono chiusi nella filiera dell'olio c'è un prodotto che si chiama Sansa che in tutta Italia viene lavorato e rilavorato per i sottoprodotti che può generare solo in Abruzzo e nel nostro territorio in particolare i sanzifici vengono chiusi la soluzione per i frantoiani è o cedere alle lusinghe o ai corteggiamenti dei sanzifici delle regioni limitrofe e oppure confidare in una magistratura giusta che permetta al sanzificio in essere di tornare a lavorare proseguiamo e siamo alle pagine di terramo del messaggero vincono i gattiani salta il bilancio bis prova di forza consiglieri assenti e niente numero legale in questo clima si dimette l'assessore guardiani Brucchi non molla resto al mio posto e se qualcuno mi farà cadere deve assumersene tutte le responsabilità con soli 13 presenti è stato impossibile aprire la seduta non ho commesso alcun reato dice il primo cittadino e poi ancora andiamo alla pagina successiva e siamo sulla costa Santoleri nessun aiuto dalle telecamere troppo lontana la data del presunto viaggio a Loreto e anche quelle poste lungo il tragitto risultano cancellate gli unici rilievi importanti per l'inchiesta sono quelli operati dai RIS nell'appartamento e nell'auto quando erano sequestrati effettuata la prova stuba dal momento che il figlio in passato è stato guardia giurata e sempre a Giulianova allarme donna tenta il suicidio buttandosi con la sua auto in mare è stata salvata grazie al tempestivo intervento di un elicottero e dei passanti e poi a Roseto spranghe coltelli e bombe carta nel bus per vendicare l'assalto dei tifosi avversari missione punitiva dopo gli incidenti accaduti all'andata sono stati emessi 16 d'aspo lasciamo il messaggero andiamo a sfogliare ora le pagine della città chiaramente ripartiamo dalla crisi al comune di Teramo i gattiani lasciano il sindaco a cuocere nel suo brodo futuro in assente in consiglio gli assessori fracassa guardiani e provvisiero verso le dimissioni il documento i gattiani ribadiscono che il sindaco deve dimettersi subito dopo il voto di bilancio semmai dovesse esserci e poi ancora consigli ad oltranza il primo cittadino si è detto pronto a convocare consigli a ripetizione così i cittadini di Teramo potranno vedere chi è che vuole davvero l'arrivo del commissario prefettizio vediamo il servizio 13 consiglieri presenti invece dei 17 necessari il consiglio comunale di Teramo che avrebbe dovuto approvare il bilancio si scioglie per l'ennesima volta per mancanza di numero legale non hanno risposto all'appello la minoranza i vecchi dissidenti della maggioranza e i nuovi dissidenti appartenenti al gruppo consigliare Futuroin che fa riferimento al consigliere regionale Paolo Gatti di Forza Italia già di Forza Italia lo stesso partito del sindaco Brucchi che non si vuole arrendere e che dice forte io non mi dimetto prendo atto oggi che il gruppo di Futuroin ha voluto disertare questa importante assemblea nella vita si possono fare tante cose ma bisogna presentarsi e dire com'è quello che si pensa io così sono abituato a fare e così ho sempre fatto nella mia vita ci ho sempre messo la faccia per me il traguardo è il 2019 giugno 2019 se qualcuno intende farmi far cadere prima questa amministrazione intende far arrivare il commissario lo può fare tranquillamente perché viviamo in un paese democratico però i cittadini terramani devono sapere chi è che vuole il commissario in questa città invece chi è che vuole amministrare bene in un momento difficile in un momento particolare con 10.000 problemi che ci sono stati che ci sono e che purtroppo ci saranno in questa città in questi pochi giorni potrebbero veramente cambiare le cose questo non lo deve chiedere a me io in questi giorni continuerò a lavorare per la città di Teramo continuerò a portare avanti i progetti continuerò a dare le risposte poche o tante quelle che sono ai cittadini terramani per questo mi hanno votato e fino all'ultima ora del mio mandato continuerò a fare questo io non mi dimetto tecnicamente dunque l'approvazione del bilancio scadrà l'11 novembre poi passeranno 20 giorni entro i quali si potrà ancora tentare di approvarlo il termine improrogabile è comunque il primo dicembre e sempre su questo fronte della politica terramana doppia resa dei conti anche in Forza Italia gatti blindato con Chiodi e Tancredi potrebbe chiedere la testa di Fanini avanti ancora blackout in centro dopo il temporale la parte est della città al buio per un guasto alla rete della pubblica illuminazione poi in basso la stagione della Riccitelli sfratta i giovani di mister Coccioli lo sportivo si lamenta per la decisione dell'amministratore arrivata senza preavviso avanti ancora Ernino D'Agostino non basta il ricordo nella sala consigliare della provincia ricordati i progetti da seria dell'ex presidente scomparso siamo alle notizie dalla provincia ma anche nella provincia intesa come ente come istituzione anche la provincia marcia per l'acqua sicura Renzo Di Sabatino alla manifestazione di sabato questa mattina all'assemblea dei sindaci in via Milli il segretario Minosse del partito democratico ha chiarito che tutto il partito prenderà parte al corteo di sabato pomeriggio manifestare vuol dire anche ribadire la nostra richiesta di tutelare un territorio di straordinaria bellezza e grande naturalità è l'appello del WWF un territorio che ha una reale possibilità di sviluppo solo attraverso la tutela del patrimonio naturale che è ereditato dalle passate generazioni avanti ancora niente accordo 79 licenziamenti alla Digi Capital salta la trattativa per i 79 lavoratori dell'azienda di Castelnuovo la proprietà chiuderà l'impianto e siamo a Mosciano con la vicenda del biodigestore anche Mariani si schiera contro l'impianto lunedì sera c'è stato l'incontro con i cittadini l'amministrazione ne ha ribadito l'incompatibilità i dubbi per gli amministratori il biodigestore potrebbe scoraggiare nuovi investimenti in tutta la zona proseguiamo l'arma nel mondo presentato il calendario 2018 in precedenza abbiamo visto anche il servizio realizzato da artisti e maestri di grande talento come Bartolomeo Pietro Marchi e Filippo Luis D'Averio avanti ancora siamo alle notizie che arrivano sempre dalla provincia le notizie di cronaca qui da Martinsicuro preso il ladro delle case vacanza topo d'appartamento beccato dai carabinieri in una villa di Martinsicuro quello dei colpi nelle case vacanza durante i mesi invernali è un fenomeno diffuso siamo ora a Giulianova Giulianova boccia il sana cantine il consiglio comunale rigetta la legge regionale varata da D'Alfonso le parole di Fabio Ruffini si tratta di una legge già impugnata e che non tiene conto delle condizioni del nostro territorio e poi ancora a Roseto arrivano da Spoh la curva entra in sciopero allontanamento dagli impianti sportivi per 16 ultra dopo la tentata aggressione contro i tifosi del Forlì ritrovati nel bus sul bus spranghe di metallo due coltelli a serramani con nove bombe carta una fionda e un pezzo di cemento e poi il comunicato di risposta della curva nord dei tifosi rosetani la curva nord ha deciso di sospendere già dalla prossima gara le attività in casa e in trasferta e poi ancora a Montepagano ecco il progetto per rilanciare il borgo antico nei piani del comune recupero della pineta riqualificazione del belvedere nuova segnaletica in centro sgravi delle imposte comunali per i primi cinque anni che l'amministrazione ha prospettato per chi vuole aprire nuove attività nelle frazioni a rischio di spopolamento e ora siamo a Silvi centro universo tutto pronto per la grande inaugurazione il centro commerciale cresce e si rinnova domani mattina il taglio del nastro con i fratelli De Eugenio e poi ancora l'azienda De Eugenio incontrerà i vertici regionali per trattare la fermata ferroviaria davanti il mega centro quali sono i servizi 60 negozi di medie dimensioni un ipermercato una piscina semiolimpionica palestra con centro benessere riabilitazione parcheggio con 900 posti 1000 metri quadri con centro medico asilo multisala con 1600 posti bowling ristorazione sala giochi e baby parking e poi ancora andiamo direttamente alle pagine dello sport della città perché nel primo pomeriggio alle 14.30 per la tredicesima giornata il Teramo sarà in campo al Nero Rocco di Trieste il Teramo cerca la scintilla contro la Triestina Diavolo al Nero Rocco alle 14.30 senza Varas basta si aspetta il colpo risoluto e l'ottavo risultato utile probabile inserimento di Graziano a centro campo con De Grazia che si sposterebbe sulla corsia Mancina davanti Tulli e uno tra Foggia e Barbuti Triestina con qualche acciaccato che stingerà i denti ascoltiamo le parole pronunciate nel prepartita dal tecnico Antonino Asta se dico ancora forte vi farei vedere tutte le figure loro che noi facciamo sempre mettiamo la squadra avversaria i nomi come fanno tutti gli allenatori e di nuovo srotoli questo arma Porcari Bracaletti Mensa Castiglia insomma squadre importanti che ce l'abbiamo anche noi non è che io gli altri non dicono attenzione a quello quello quell'altro la squadra ha fatto tanti gol la squadra ha fatto più gol insieme al Pordenone 20 quindi loro la fase offensiva è importante e noi dove la nostra fase difensiva sta lavorando molto bene sarà un bel match soprattutto i loro attaccanti con i nostri difensori qualche cambiamento sì ma non non posso stravolgere la squadra ma un paio di situazioni ci saranno se vedete davanti più o meno stanno giocando tutti titolari o panchinari è dura dirlo perché Baccio Terracino e Foggia sono entrati dopo neanche 10 minuti quindi hanno fatto un tempo intero come l'ha fatto Barbuti e Tulli quindi ho 4 attaccanti in questo momento più che mai con Fratangelo che ci poteva dare qualcosina in più stava bene però ecco saranno un po' davanti qualche cambiamento e forse al centrocampo dare un po' più di sostanza visto che fuori casa col campo in erba questa squadra è un po' strutturata e magari Graziano può essere quel giocatore che ha sempre fatto bene anche domenica si è tolto da dosso un po' la partita aveva fatta in casa che aveva fatto male gli è rimasto un po' così fuori casa ha fatto molto bene quando è entrato domenica anche poi per struttura è un giocatore che in questo momento fuori casa soprattutto ci può dare una mano e andiamo a vedere ora le pagine dei quotidiani sportivi nazionali qui siamo sulla gazzetta che apre così avanti Zaza Rebus Insigne nel 3-5-2 di Ventura immobile punto fermo crescono le quotazioni dell'attaccante Rinato nel Valenza il napoletano è il più in forma ma non dovrebbe partire titolare qui c'è una sorta di borsino circa la probabilità di essere titolare chiaramente immobile ha il 100% di probabilità lui sarà sicuramente al centro dell'attacco chi il partner 50% Zaza 30% Eder 10% per Belotti Insigne e poi sotto la testata calcio per le feste da Natale alla Befana buffata derby di Milano il 27 dicembre non solo campionato in calendario oppure i quarti di Coppa Italia all'interno tutte le partite dal 22 di dicembre al 6 di gennaio e poi garanzie liquidità e mercato cinese ecco che cosa l'UEFA chiederà al Milan e poi ancora di spalla la intervista alla sciatrice Lindsay Von sciò con gli uomini per capire i miei limiti avanti ancora siamo alla prima pagina del Corriere dello Sport con un primo piano di Roberto Mancini Italia Mondiale Mancini lancia gli azzurri battete la Svezia e venite in Russia poi vi aspetta un grande futuro con giovani top e poi che sfide a Natale Seratona D'Auro il 23 dicembre alle 20.45 un grande Juve Roma il 27 possibile Milan Inter di Coppa Italia il 30 Juve Lazio alle 18 e poi ancora siamo alla prima pagina di Tutto Sport a Magliati gioco di parole 358 mila euro in sei giorni per la maglia dei 120 anni clamoroso successo per la casacca indossata dai bianconeri domenica in occasione del compleanno della Juventus e poi di spalla toro piano mercato per l'Europa ecco Cutroni il milanista con falcinelli torna di moda per il ruolo di vice Belotti e ora torniamo ai quotidiani locali lo facciamo col centro andiamo sul sul centro eccolo qui con le pagine dello Sport e le previsioni di questo Bari Pescara il posticipo di domenica sera Bari più forte ma quando c'è Zeman puntini puntini la presenza del Boemo sulla panchina del Pescara rende difficile il pronostico Gautieri è una partita da tripla poi ci sono le parole di altri giocatori che hanno indossato le due maglie Massimo Ganci con le squadre di Zdenek non si può mai dire come andrà a finire Nando Sforzini chi la deciderà Galano dalla parte del sole dall'altra Bonanni Massimo Bonanni i biancazzori sono la mina vagante del campionato Grosso il tecnico del Bari punterà su Galano e Sisse ecco qui i giocatori che sono stati interpellati dal centro altri doppi ex Giovanni Indiveri Nando Sforzini Massimo Ganci Edi Bivi Massimo Bonanni e Carmine Gautieri e poi ancora in basso niente da fare per Ben Ali le parole del presidente Sebastiani sabato giocherà con la Libia rientro impossibile e poi la serie di l'Aquila è una corsa contro il tempo per evitare il tracollo l'intesa sul ripienamento dei debiti va trovata entro lunedì quando è prevista l'approvazione del bilancio e poi altri richiami come possiamo vedere sulle altre squadre di serie di avanti ancora con il basket Roseto andrà su Barber se Raffa non si libera ancora assenti Marulli e Ogide per la sfida di sabato a Bergamo l'appello di Capitan Casagrande solo restando uniti potremo salvarci e ora il messaggero tiferò per il pareggio sono le parole pronunciate da un altro doppio ex Angelo Terracenere eccolo qui il doppio ex dice a Bari sono diventato calciatore Pescara mi ha dato una chance quando nessuno credeva più in me la squadra di Grosso ha tutto per vincere il campionato i biancazzuri devono ancora imparare a gestire le partite e poi ancora si avverte questa volta non dobbiamo subire gol poi una notizia legata agli ultimi due turni del 2017 che sono stati anticipati non si giocherà più il 22 e il 29 di dicembre bensì il 21 e 28 dicembre ecco qui i turni dunque anticipati di un giorno si giocherà sempre di giovedì 21 e 28 dicembre alle ore 20 e 30 e poi le parole di Barella che vota Gans strano vederlo in panchina Barella che è tra i convocati dell'Under 21 che sta lavorando in questi giorni al Poggio degli Olivi ieri appunto lo abbiamo avvicinato venerdì sera invece ci sarà la prima dell'Italia contro la Svezia poi ci sarà il ritorno insomma la partita per quanto riguarda l'Italia maggiore sarà decisamente più delicata sì è una partita importantissima però penso che con l'atteggiamento giusto e la voglia di vincere arriverà la vittoria la qualificazione di questo ne sono sicuro Simone per me è un grande giocatore un grande attaccante uno che vede la porta ne ho visto pochi come lui nulla poi queste sono scelte del mister del Pescara di mister Zeman io non entro in merito ti posso solo dire che Simone è un bel giocatore è una bravissima persona a proposito a Cagliari l'ha espiorato Zeman oppure sì sì ho fatto un anno di allenamenti con lui non sono mai sceso in campo però si è fatto un anno di allenamenti duri con lui secondo te Ganze come la sta vivendo in questo momento l'esclusione? per un giocatore non è mai bello stare in panchina però sono sicuro che Simone quando verrà chiamato in causa si farà trovare pronto e farà gol come sa fare andiamo a chiudere sul messaggero per la serie C il Teramo a Trieste per allungare la serie dopo sette risultati utili i biancorossi cercano i tre punti nel turno infrasettimanale Asta recupera Sumare e Varas il tecnico lascia a casa Fratangelo e pensa a qualche novità in attacco serve un successo che ci dia serenità sul fronte l'Aquila per l'Aquila si avvicina il giorno della verità sul fronte Roseto Basket Roseto c'è ora c'è l'ok per l'arrivo di Raffa in campo già a Bergamo l'esterno gioca stasera in Europe Cup la sua ultima gara con il Luke Oil e noi ci fermiamo qui con la rassegna stampa di mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti con i nostri notiziari i TG6 delle ore 14 delle ore 19 e delle ore 23 grazie a Silvia Gentile in regia e grazie a voi per la cortese attenzione buona giornata un hurroned aipsare permet venire una differenza di sèche il ruota le corrisse le corrisse il ruota Grazie a tutti.